La firma di Cristian Tommasini sul gol della salvezza, l'ingresso in campo all'inizio della ripresa, la coordinazione sul cross di Borello ad anticipare il difensore avversario e a mettere alle spalle di Branduani. Il gol che significa permanenza in Serie C per il decimo anno consecutivo, sei gol in cinque mesi e una conferma, Tommasini è un giocatore determinante nel girone C di Serie C. In estate tornerà al Pescara e si porterà dietro le immagini di un 19 maggio che per i tifosi del Monopoli resterà comunque indelebile. Penso che questa salvezza sia il risultato di grossi sacrifici e grosse anche sdentate che abbiamo preso nell'inizio del girone di ritorno soprattutto, perché a mio avviso abbiamo fatto partite molto buone, però ci mancava sempre qualcosa e penso che sia la salvezza di tutto l'ambiente Monopoli che veramente non ci ha fatto mancare nulla e che ci ha sempre creduto perché ci hanno sempre creduto tutti.